non fa niente forse aveva il pelo più folto bella mettete un po' più qua che si vede la faccia a 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 l'ha mangiato il biscottino no ma è buco 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 comunque non eravamo così vicini l'altra volta ti ricordi? si vabbè stava libero se ne andava eh però che voglio fare? si che voglio fare la liberiamo? per almeno sta un po' libera si però si si sta avvicinando di più una volta non era così per niente eh e secondo me il cioccio c'è perché ha pure la lingua oltre un po il colore il pelo sono pure i fiorellini per le foto sento la teniamo con un maschio non lo vedo curioso tu forse non te la ricordi l'altra volta? la distanza guarda infatti ho fatto tutte le foto super zoomate penso venute bene comunque si però molto zoomate perché lì si mette in posa capito? si kaori pipì brava credo che stia facendo la pipì si no bu è una posizione strana che c'è? si secondo me cioccio sicuro si si totti si non 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 Grazie a tutti.